Mi scuserete se ruberò pochi minuti perché so bene che molti di voi sono venuti qui anche per ascoltare Pierluigi Bersani. Però consentitemi, visto che ci siamo ed è giusto, portare un po' le testimonianze di tanti territori, soprattutto dei territori delle periferie degradate. E quindi ringrazio Pierluigi Bersani che ha raccolto questa nostra richiesta per testimoniare lo stato di disagio che versano tanti territori. E poi anche qui Scampia, lo diceva Gard prima, ormai è diventato un po' l'icona del male in Italia in virtù del fatto che a Scampia c'era e forse c'è ancora una forte presenza della criminalità organizzata e la più grande piazza di spaccio di droga. In questi giorni ci sono state anche delle incomprensioni perché qualcuno ci ha ricordato che siamo un po' la cenerentola delle periferie degradate. E noi, come dire, penso che l'unica risposta che si può dare rispetto a questa incomprensione che c'è stata è che noi lanciamo da Scampia una richiesta di gemellaggio con il circolo del PD di San Salvario. E ne ho parlato prima con il segretario del circolo, siamo d'accordo, penso che possiamo, come dire, chiudere qui la cosa. E quindi copia e colla. Invece alcuni numeri per rendere, come dire, più plastica la situazione di Napoli, di Scampia, Napoli è evidente, è una delle più grandi metropoli d'Italia, c'è un tasso alto di disoccupazione che arriva forse al 39%, senza contare, voglio dire, i lavoratori in mobilità, i gas integrati. Scampia raggiunge una cifra un po' più alta, siamo intorno, voglio dire, al 45%. Una situazione di estremo, voglio dire, disagio socio-economico che veramente, come dire, ci deve far riflettere, ci deve far pensare perché poi non credo che sia soltanto Scampia che ha questi problemi di grande disoccupazione ma credo che questo è un tema ormai che riguarda un po' tutta l'Italia. Io non vorrei dire che qua ormai siamo arrivati all'oro di Napoli dove si mangiava la pizza a sette giorni, si pagava la pizza a sette giorni ma credo, voglio dire, ci siamo molto vicini perché molte famiglie non possono sbarcare il lunario sono fortemente indebitate e visto che la crisi non nasce solo oggi la crisi ormai viene un po' più da lontano ormai sono quasi 5-6 anni cosa che il governo di centro-destra non ha saputo, come dire, mettere un freno a questa crisi e oggi voglio dire che ci troviamo in uno stato molto avanzato della crisi allora qual è la risposta che noi possiamo dare al termine povertà? Perché credo che è vero se a Scampia c'è il 45% di disoccupazione con una popolazione attiva di 43.000 abitanti quindi vi renderete conto che uno su due non lavora e se il 46% delle famiglie sono famiglie numerose la cosa si fa ancora più drammatica quindi come mettere un freno, voglio dire, a tutta sta roba qui allora io credo che tutta una serie di problemi che riguardano poi la povertà e che la povertà non viene, voglio dire, da sola la povertà nasce soprattutto insieme alla criminalità insieme al disagio nasce soprattutto dalla mancanza di lavoro perché se ci fosse lavoro portassi, voglio dire, che questi fenomeni sarebbero molto, ma molto più ridotti e quindi a quel punto dovremmo attivare le politiche sociali cosa anche qui che oggi è diventato molto difficile vedo in sala l'ex senatrice che è venuta più volte a Scampia voglio dire a testimoniare per quanto riguarda e a parlare di politiche sociali è la Livia è la Livia turco io ho due fari io ho due fari negli occhi con un occhio quasi raffreddato che non riesco a vedere bene comunque la intravedevo e quindi il tema delle politiche sociali diventa, come dire, un corollario rispetto al problema della povertà però io credo che dobbiamo affondare il bisturo diciamo, sì, sulla questione che riguardano il lavoro tenendo insieme le periferie degradate perché non dimenticiamo molto spesso nelle metropoli i due terzi della città sono fatte di periferie e la popolazione dove più si addensa è nelle periferie allora anche qui credo che sicuramente riguarderà il governo di centro-sinistra e anche il PD dobbiamo prestare più forte attenzione al problema delle periferie e ti faccio una raccomandazione qui Marino affronta, voglio dire, fortemente questo problema delle periferie perché il tema delle periferie è un tema centrale allora se teniamo insieme il combinato disposto criminalità disagio socio-economico e uguale povertà io credo che insieme alla riqualificazione delle periferie noi possiamo fare un forte passo in avanti è molto spesso, guardate quando ci sono le programmazioni perché poi nei confronti delle periferie si spendono grande spereguazioni perché quando si fanno le programmazioni soprattutto le regioni in particolare la regione Campania delle periferie non si tiene conto dello sviluppo delle periferie ma si pensa soprattutto ai centri storici oppure alla zona ovest dove dovrà nascere il turismo o a quant'altro invece appunto la 167 ormai è passata guardiamo oltre la 167 guardiamo oltre la 167 dalla legge 167 guardiamo invece come diceva Marino nella rigenerazione urbana perché io credo che noi dobbiamo puntare molto sulla rigenerazione urbana però il problema delle periferie si tiene insieme se noi incominciamo a guardare anche come problema di sviluppo da inserire le periferie perché se le guardiamo soltanto per mettere un po' di calce alle case e quindi gestire soltanto il patrimonio non trasferiamo funzioni di eccellenza nelle periferie perché di questo si tratta oggi con le città metropolitane bisogna trasferire funzioni di eccellenza nelle periferie e quindi riqualificare le periferie e dobbiamo chiedere all'Europa caro Pierluigi più Europa soprattutto quando dobbiamo parlare di coesione sociale allora se noi spingiamo più verso la coesione sociale a quel punto possiamo mettere in circolo più soldi per quanto riguarda la riqualificazione delle periferie e quindi questo diventa un tema centrale noi in campagna elettorale noi siamo ancora un quartiere nonostante tutto che prendiamo quasi il 30% dell'adesione al PD molto spesso mi domando ma perché ci votano ancora e quindi in campagna elettorale perché poi anche anche è bello fare politica soprattutto le periferie perché non si fa la politica soltanto parlando delle questioni nazionali ma si fa politica affrontando le questioni di petto le questioni del disagio e del degrado ambientale noi abbiamo le famose vele penso che molti di voi ricorderanno che con l'aggiunta di centro-sinistra abbiamo che all'epoca faceva il capogruppo dei DS in consiglio comunale con l'aggiunta Bassolina e poi con Nair Volino abbiamo avviato un grande piano di riqualificazione abbiamo abbattuto tre vele abbiamo costruito quasi mille abitazioni abbiamo costruito un campo di calcio siamo per costruire il centro del polo delle nutrizioni con finanziamento della comunità europea di 20 milioni di euro ma non basta ci vorranno altri soldi per terminarlo e quindi abbiamo avviato questo grande piano di qualificazione urbanistico abbiamo approvato la prima fase la seconda fase adesso si tratta di buttare a terra altre quattro vele però nel frattempo mentre davamo le case alle cittime assegnatare le quattro vele sono quasi occupate abusivamente e io mi sono permesso di proporre perché anche questa povertà persone che vanno occupare le vele stanno ormai da 7-8 anni là dentro non si può dire che è abuso così ma è abuso di necessità allora questo problema io credo che noi dobbiamo cercare di capirlo logicamente tenendo fuori tutti quelli che fanno altre cose chi frequenta diciamo sia ambienti che non devono frequentare quindi avere una selezione una mappatura e mi sono permesso di dire avendo una concertazione negoziata con i cittadini spostatevi in un'unica vela e permetteteci di abbattere altre vele così da poter sviluppare il territorio nella direzione che tutti noi auspiciamo è inutile dirvi che siamo da due anni con la giunta dei magistri abbiamo perso solo tempo e quindi speriamo di ripartire voglio rispetto anche a questo però io credo che noi dobbiamo intervenire soprattutto con la programmazione quando parlavo prima di regione quando i finanziamenti i POR quando si vanno a programmare i POR non si programmano anche per le periferie e per le zone degradate io credo che commettiamo un delitto io mi sono permesso in campagna elettorale di fare una proposta di legge che dopo te l'affido insieme a un altro deputato mettendo mano anche ai poteri sostitutivi previsti dalla riforma del titolo quinto della Costituzione all'articolo 127 e all'articolo 130 perché se le regioni non fanno il loro dovere nella programmazione c'è bisogno anche dei poteri sostitutivi così da poter regolare meglio i finanziamenti e affrontare le questioni di petto di così come devono essere io mi fermo qui perché mi rendo conto ci sarebbe molte cose da dire vi ringrazio di avermi dato questa opportunità buon lavoro al Partito Democratico e auguri anzi un bocca al lupo a Marino grazie a tutti grazie a tutti